Benvenuti gamers sul palparadino che non si chiama Dina e questa è la carica del 102, la segheria. Fuck. Posso non fare questo livello? Non posso? Oh, grazie Chester. Puoi darmi qualche informazione su questo posto? Ti conviene accendere le macchine che incontri, perché le vibrazioni potrebbero far venire fuori delle cose nascoste. Va bene, ci vediamo. Dette anche osse o figurine. Non fatemelo, va. Non voglio. Ossa. Mi sembra solo tre, giusto? Sì. Questi cosi! Questi cosi! Questi cosi! È per questo che non voglio fare questo cos... Cos... Sì, sparami quando non ti... Non fatemelo fare, no... Non questo livello... Ma non questo... Fa anche tu e ti ci mette! Shut up, coso. Fantastico! Allora, questo livello... Non sto parlando, lo so... Quanto può essere odioso questo livello? Da uno... Mille... Un miliardo o più, forse... Di che parte può passare? Ah, ho capito. Devo cadere... Mi si può andare? Non si può andare... Aspetta, sì... Cosa di vita l'ho perso, quindi mangio il panino. Yamma. Cosa? No, 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 wow! Fuck you! Pure il panino... No, il panino non ancora. Allora Dicevo questo livello È inventato in una Ma tu guarda Segeria E Lo odio Non sapete quanto lo odio Primo cucciolo Allora Prima di tutto ci sono ossa interrate Imposte a caso Allora Sento dormire Ma è di là E l'abbiamo visto anche prima Non questo livello Non questo livello Però Finiti No Fuck Tutta l'altra in questo livello C'è un punto in cui il fiuto è buggato E quindi C'è un piegato un po' Prima di fare il 100% Tu salva Prevedo Una morte Forse Cosa Mi ha colpito What What E poi Io inizialmente Credevo che questi cosi Si potessero uccidere solamente se li rotolavi Si ma dal dietro E quindi Le odiavo ancora di più Dall'altro qua c'è un osso L'ultimo osso che avevo trovato Ma non ricordo perché Mi ha fatto rifare tutto È quello che mi ha fatto Ecco vedi Ce ne sono 8000 tutti qui Vabbè Ma non dovrebbe esserci più niente Quindi Andiamo E quei cosi ti seguivano Ti seguivano in continuazione Io piuttosto Li schippavo Ehi Allora Grazie Posso continuare Qua c'è qualcuno che ho Dov'è che dovevo andare Però adesso che so Che puoi ucciderli anche dal davanti È tutto molto più semplice Comunque si Ho fatto un paio di game mode Per colpa di quei cosi Allora Non odiatemi se odio questo livello Ma è così E quindi Yes Allora Qua c'è un'altra figurina Io non ho capito perché ci sono queste scatole Cosa c'entra quella segheria? Un tubero What the f... Che cazzo Ok 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 Vabbè Ogni macchina Basta la farlo tre volte Ti daranno le figurine Si sono tutte Sono le macchine che vi daranno figurine Una volta fatte tutte e tre Allora Ti odio Grazie Ho bisogno di autostima In questo livello Ho bisogno di autostima In questo livello Non c'è niente di qua No eh Allora Questo È tipo A piramide Quindi Esplorerò Tutti gli strati Si può dire esplorare Questo non è Proprio esplorare Allora Ehi Faccherò un coso Ma tu oggi è quella musica Dove sei? Ragai di tanti puri Di attaccare Oh mio dio Per la prima volta In tutto il let's play Ha tentato di attaccare Sta andando tutto bene Per ora Mi dai neanche osse Ti odio Ok Allora Qui Ci hanno piegato Una vita e mezza Per scoprire Che qua c'erano Oh sì Ho mancato un panino Ehi cesta Cioè Sei stato utilissimo Devo dire Senti cesta Come si fa ad uscire da qui? Bisogna usare la gru? Esattamente Ma prima bisogna trovare la chiave Quando l'avrai trovata Potrai servirti della gru Per spostare quel grosso tronco È così che si raggiunge l'uscita Posso manovrare la gru? Troppo forte La cosa bella è che È già finito il livello Allora La rifacciamo Oh no Per quelli So cosa bisogna fare Ok Non so se lì sopra c'è qualcosa Non credo Non credo Che fai qui? Perché Perché non hai una tana? Allora Primo giro tutti Cosa? Vabbè C'è altro qua in giro? Aspetta Uno È già finito il livello What? Devo tipo trovare una chiave Ah qui il fiuto è buggato Ah ok Non l'ho vista Mi sembrava strano infatti Sapevo che se aveva una chiave Figurino perché l'ho usato Ma comunque Io ho fatto che faccio il 100% Salta coso Salta Domino 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 please Non farti odiare Non farti odiare Domino Domino Cattivo Sei grande Grazie Figurino Ok le tre figurine per le cose le abbiamo presi La figurina per i cucci le abbiamo presi Da poco prenderemo quelle per gli ossa E poi per il finale Ok c'è tutto Sperando che abbia preso tutti gli ossi Questa serve troppo le ossa Cos Cos Odio camminare dritto 92 Lì ce ne sono solo 4 Perché Allora Beh qual tizio potrebbe anche darmene Smettila domino Potrebbe anche darmene torre in effetti Ma comunque Me ne manca una Figurati se no me ne manca una Figurina Taglio What Oh Davvero Ero qui prima Vabbè Taglio Mio dio per fortuna Che è passato velocemente Mio dio per fortuna che è passato velocemente Di quello che pensassi E per fortuna Forse è per questo che odio Chester E' nei due livelli che odio di più probabilmente Molto più di Di quel livello labirintico Che Si chiama labirinto E' spoiler Si Ma Ok E' labirintico Ma non Non c'è problema Odio questo livello Ciao 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 Ciao